I fratelli Vittorio e Pietro Verone e Gennaro Casafredda sono due delle tre vittime dell'incidente stradale sulla 1 Milano-Napoli tra Capo e Santa Maria Vetere, avvenuta nella serata di sabato 5 marzo. Vittorio, 77 anni, originario di Castellamare di Stabia, un ex direttore di banche, ha perso la vita insieme a suo fratello Pietro, 73 anni, la terza vittima aveva 77 anni ed era originario di Sant'Egidio del Monte Albino. Il bilancio dell'incidente, oltre alle tre vittime, ha visto due feriti di cui al momento non si conoscono le condizioni di salute. Secondo quanto ricostruito erano circa le 19.30 quando il 77enne, alla guida di una Fiat 500, ha imboccato la strada contromano viaggiando in direzione Roma. Pare che i due fratelli, a bordo di una Fiat Mondeo, abbiano cercato di fermarlo, ma una Range Rover, nella quale c'erano due persone, li ha travolti all'altezza del chilometro 722. Un impatto violento che ha visto il coinvolgimento di diversi veicoli. Ad avere la peggio sono stati i due fratelli e il conducente del veicolo che viaggiava a contromano, per i quali non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.